Sembrava una vittoria annunciata, invece sabato la Propatria ha trovato un avversario difficile da battere anche fuori dal campo. E così, oltre che di bianco-blu, il Carnevale Bustese 2019 si è tinto pure di bianco-nero con i costumi della carica dei 101. Una competizione bella e festosa, quella tra i carri, applaudita da migliaia di cittadini di Busto Arsizzi e dintorni. Alla fine, a trionfare, è stato l'allestimento maculato dell'Oratorio Sant'Anna, anche se un premio è spettato pure ai tigrotti in festa per il centesimo anniversario della squadra di calcio cittadina. E mentre in tanti si godevano lo spettacolo, per alcuni c'era ben poco da ridere, visto che far filare tutto liscio in questi casi implica un impegno molto serio. Per strada dunque anche Polizia Locale Croce Rossa, con tanto di sindaco Emanuele Antonelli impegnato in prima persona a invitare la folla a tenere i bambini alla giusta distanza di sicurezza dai carri allegorici, affinché la festa non si trasformasse in tragedia, come purtroppo ha caduto altrove. Qui il finale per fortuna è stato lieto, con un epilogo ben diverso dall'anno scorso, quando la bombasina Jenny Castiglioni si accasciò subito dopo la sua ultima sfilata. A sostituirla quest'anno c'era Piera Moroni, nuova interprete della maschera femminile Bustocca, che ha aperto la sfilata come da tradizione, tra sorrisi, saluti e l'immancabile pioggia di coriandoli e stelle filanti, l'unica caduta in terra in una giornata davvero solare.